Un agente della Polizia Municipale è stato ferito poco fa. La scorsa notte il comandante della Polizia Municipale mi ha chiamato ben oltre l'una di notte per informarmi di una rissa tra minorenni sedata grazie alla loro presenza. Credo che la proposta del sindaco Ghinelli di valutare l'attivazione di presidi privati di sorveglianza e controllo sia una proposta di buonsenso e non più rinviabile. Movida fuori controllo ad Arezzo, la morsa della pandemia si è allentata e subito dopo sono rispuntati tutti i problemi della notte, a tal punto che l'amministrazione comunale è sempre più decisa a correre ai ripari. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, come ha sottolineato il vice sindaco Lucia Tanti tramite i propri profili social, è caduta da Piazza della Badia, dove un agente della Polizia Municipale che si trovava in zona per i controlli del sabato sera è stato ferito alla testa da un ragazzo. L'agente è stato trasportato per accertamenti all'ospedale San Donato. Le immagini dell'intervento dell'ambulanza nel cuore della notte nel centro aretino hanno fatto il giro del web suscitando rabbia e sdegno. La nostra Polizia Municipale ha concluso Lucia Tanti nel suo post. Sta facendo un lavoro straordinario e capillare a tutti loro. Va un enorme ringraziamento. Polizia Municipale che presto potrebbe ricevere rinforzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.